Ued, Andrea Zelletta sceglie Natalia ma il pubblico insorge, ecco perché. Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel corso della giornata di ieri è andata in onda la tanto attesa scelta di Andrea Zelletta, il ragazzo ha optato per Natalia. Ad ogni modo, quello che è accaduto nel corso della puntata ha lasciato tutti senza parole. Molti spettatori hanno, infatti, reputato molto più interessante ed emozionante la non scelta, piuttosto che la scelta. Proprio per questo motivo, sul web è scoppiata una polemica molto forte. Ecco cosa è successo. Andrea è il modo in cui ha scelto Natalia, il web non gradisce. Dopo la messa in onda delle scelte di Angela e di Andrea, questo pomeriggio sarà la volta di Giulia. La ragazza dovrà scegliere chi tra Manuel e Giulio sarà il ragazzo che l'accompagnerà al di fuori delle telecamere. Ad ogni modo, in queste ore, l'argomento che sta generando maggiore scalpore sul web è ancora la scelta di Zelletta. Il ragazzo, infatti, ha chiamato in studio prima Claudia, le ha fatto un discorso molto sentito ma poi è avvenuto un colpo di scena. Tutti si aspettavano che la corteggiatrice, a causa anche della sua giovane età, avrebbe dato luogo ad una scenata. Tutto questo, invece, non è affatto accaduto, anzi. Claudia è stata estremamente matura e, con tono emozionato e deluso, ha augurato al tronista il meglio e poi lo ha abbracciato forte. Subito dopo è stata la volta di Natalia, Andrea Zelletta, però, è stato molto frittoloso nel suo discorso e anche la ragazza decisamente rapida nel dare la risposta. Questo ha fatto insorgere il web. Il web contro Zelletta è la richiesta su Claudia. Molti telespettatori, infatti, hanno incominciato a dire di aver reputato molto più emozionante la non scelta, piuttosto che la scelta. Inoltre, il discorso fatto da Claudia è stato apprezzato tantissimo, al pubblico che i fan hanno avanzato una richiesta. La maggior parte delle persone vorrebbe vedere la ragazza sul trono. Questa è una cosa che accade davvero troppo spesso. Ad ogni modo, ci sono anche persone assolutamente in disaccordo con tale ipotetica decisione. Molti fan hanno esortato la produzione a non prendere questa decisione perché stanchi del continuo riciclaggio di persone. Secondo il loro punto di vista sarebbe molto più bello e opportuno dare la possibilità a persone nuove. Ad ogni modo, pare proprio che la scelta di Andrea Zelletta, ricaduta su Natalia Paragoni, non abbia entusiasmato e, soprattutto, emozionato molto il pubblico da casa. C'è addirittura chi ha gridato al business. . 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